Si chiama Amare è un'altra cosa, coinvolge 50 artisti da tutta Italia, una mostra collettiva online in favore dell'associazione Pronto Donna. Ne parliamo con Mariangela Baldi, come nasce questa idea? Buonasera, questa idea nasce per poter riunire l'arte con le varie storie nel mondo. L'arte è sempre stata una buona cura per risolvere tanti problemi. Noi abbiamo cercato di esprimerla purtroppo in un argomento poco piacevole perché l'abbiamo fatta contro la violenza delle donne. È una mostra che doveva essere fatta l'8 di marzo, ma purtroppo con il lockdown non è stato possibile. È stata rinviata al 25 di aprile, la dovevamo fare nei luoghi della Casa dell'Energia, purtroppo non è stato possibile farla neppure lì. E quindi abbiamo deciso di farla online. Non è stato facile, però abbiamo 50 opere di artisti internazionali, perché ci sono anche artisti da fuori, che hanno collaborato con questa iniziativa. Vedo che da stamani che abbiamo pubblicato i quadri sono andati veramente, non dico a ruba, però abbiamo già diverse persone interessate all'acquisto. Perché? Perché il fine di questa mostra è vendere i quadri e una parte devolverla all'associazione Pronto Donna, che è un'associazione che appunto aiuta le donne che hanno difficoltà e che si rivolgono alla loro associazione. Poi l'obiettivo ovviamente è farla dal vivo quando sarà possibile. Quando sarà possibile la faremo dal vivo. Anzi, volevo prendere l'occasione per coloro che avessero degli spazi espositivi e comunicare magari alla loro disponibilità, che saremmo anche disponibili a farla girare questa mostra, perché è molto interessante. Potremmo anche farla da regione a regione, come sono state fatte altre iniziative con l'arte e la poesia e con l'arte e l'ecologia. Io infatti sono la presidente di un'associazione culturale e ecologica che è Arte Eco, che trattiamo appunto l'arte con i colori della natura. E in questo caso purtroppo il colore è rosso, è una natura molto forte, ma è il cuore che batte in tutti noi. e le donne che danno la vita anche agli uomini non credo che abbiano il diritto di essere trattate come a volte vengono trattate.